La ringrazio, colleghi senatori e membri del Governo. Mi accingo a fare la dichiarazione di voto. Potrei replicare anche in modo forte all'intervento che mi ha preceduto, ma ho soltanto dieci minuti e non voglio sprecare il mio tempo per replicare a chi annuncia un intervento in senso costruttivo e poi il suo intervento è soltanto ricco di critiche. Veniamo al merito. Siamo per votare un provvedimento che sicuramente non dà risposte alle 43 vittime del grave crollo del ponte Morandi. A quelle 43 vittime innocenti le risposte non ci sono. Però noi avremmo voluto darle ieri le risposte agli altri. A tre mesi esatti dal triste evento. Non è stato possibile farlo perché i 400 emendamenti dell'opposizione del Partito Democratico ce lo hanno impedito e abbiamo dovuto ulteriormente slittare l'approvazione di questo decreto. A Genova il mondo delle imprese e del lavoro è in grave strato di disagio per le pesanti e in alcuni casi insormontabili difficoltà. I cittadini che hanno dovuto abbandonare le loro case non riescono ancora a riorganizzare la loro vita. Le vie di comunicazione urbana non riescono a sopportare in alcune parti della giornata il normale traffico collegato a coloro che vanno a lavorare o comunque si muovono per motivi importanti. Sia il traffico cittadino apponente, sia quello di collegamento generale, regionale ed extraregionale, determinano ritardi che implicano anche gravi danni economici. Dobbiamo ringraziare e dovremmo farlo tutti il Comune di Genova e la Regione Liguria per l'importante uso di energie nel creare con grande velocità concrete alternative di comunicazione di aria cittadina che impediscono il totale collasso. L'azione locale, unita alla preziosa presenza del Governo tramite il Vice Ministro Edoardo Rixi che tutti quanti ringraziamo e che, lo dico anche rispetto a un intervento che mi ha preceduto e che tramite il Governo si è attivato anche con atti concreti non so se le ore erano 12 o forse meno subito dopo il triste evento. Tutti abbiamo visto queste cose tutti dovremmo apprezzarle purtroppo c'è qualche d'uno ancora a Genova e altri in quest'Aula che continuano ad avere i paraocchi e non hanno visto quello che è successo e non hanno visto gli interventi positivi delle amministrazioni locali e di questo Governo in merito. Ma i paraocchi anche in quest'Aula, collega Renzi si sono smascherati in questi giorni e lei stesso li ha smascherati nell'intervento di Pocanzi. La necessità di ridurre i tempi a parole è riconosciuta da tutti ma solo a parole. Infatti l'atteggiamento del Partito Democratico è stato palesemente dilatorio con l'evidente intenzione di rimandare il provvedimento alla Camera dei Deputati per poi rimandarlo modificato al Senato avviando un rimpallo di chi non vuol fare. Ma a Genova siamo abituati ai danni e al non fare del Partito Democratico. Addirittura il collega Marciotta in Commissione mi ha sconvolto. Ha più volte inneggiato all'importanza del bicameralismo per sostenere il rinvio alla Camera del Decreto alla faccia della coerenza. Usate l'invenzione delle fantasie per dimenticare lo schiaffo ricevuto dagli italiani al referendum. Collega Renzi, dovevate smettere di fare politica? Lei oggi è qui a pontificare dopo aver perso il referendum seduto nei banchi di quel Senato che lei voleva abrogare. Dov'è la coerenza? E sappiatelo perché immagino lo avete... Presidente, io sto parlando con lei e non capisco perché... Non interrompa! Tra un po' dovrete ingoiare a un altro rospo con l'approvazione di questo decreto. Buon appetito! E tra gli strumenti usati, ne abbiamo avuto la replica questa mattina, per l'invio del decreto è stata citata la gronda. Si potevano citare, collega Renzi, anche il tunnel della Fontana Buona, la Bontremonese, la Ferrovia per Ventimiglia, l'Albenga-Carcare-Predosa, la strada Santa Margherita-Ligure-Portofino, il rifacimento del porto di Rappallo, il tunnel di collegamento fra la Valdaveto e la Fontana Buona, la strada statale al Bisola-Aquiterme, la strada della Valvarena. Ma con che coraggio? Oggi citate la gronda, che per noi deve essere fatta e la vogliamo. Ma la gronda, collega Renzi, oggi non c'è perché il Partito Democratico, che in allora aveva una S in più, ha deciso e votato di non farla per ben due volte. In Consiglio Comunale a Genova, io sono un testimone diretto, il 2 marzo del 1992 e il 20 giugno del 1994, per colpa vostra, la gronda, c'era un PDS, era un PD con una sinistra in più, ecco qua, che lontastacca e oetiofea, sono le due delibere del Consiglio Comunale, dove voi avete proposto e votato di non fare la gronda, che sarebbe stata in uso, no! Cartelli no! 15 anni! Senatore! 15 anni la gronda! Senatore Bruzzone, Cartelli no! Chiedo scusa, Presidente, ha ragione lei, non è un cartello, però sono delibere del Consiglio Comunale di Genova. Sono delibere del Consiglio Comunale di Genova, da 15 anni la gronda ci sarebbe stata e forse avremmo anche alleggerito il traffico sul ponte Morandi, verrebbe, e guardate, vi dico di più, perché la storia vale anche per noi, il sindaco di allora era Verlo, ma il vice sindaco era certo tal Claudio Burlando, che aveva anche la delega, l'assessorato a lavori pubblici, e i cantieri erano già avviati per la gronda bretella Volti-Rivalolo, i lavori erano appaltati per 880 miliardi di lire dalla società pubblica Iri-Italstat. Presidente, fate terminare, fate terminare, prima non siete stati interrotti, fate terminare, Prego! Presidente, chiedo scusa, ma io vorrei andare avanti su questi temi e non mi interessa neanche... Chiedo qualche istante... Senatore, vada avanti! Allora, appaltati 880 miliardi di lire, il vostro no è costato 120 miliardi di penali alle imprese che già lavoravano per la ricostruzione dell'opera, i cantieri erano aperti, la Liguria in quell'occasione perse mille miliardi di lire e oggi venite a parlare di gronda! Verrebbe da citare, Presidente, un altro grande genovese, oltre a Renzo Piano, un celto tal Gilberto Govi che in una delle sue opere diceva cara Gigia, in questo caso PD, se ti dena faccia petera e lastre fan sangue! Abbiamo avuto a Genova decenni di amministrazione del Partito Democratico. L'assessore comunale Nogronda, Claudio Burlando, diventò Ministro dei Trasporti e per dieci anni Presidente della Regione Liguria! Ci vuole del coraggio! Ognuno la pensa come vuole! Quindi fate finire! Prego, la smetta per favore di interrompere! Termine per cortesia! Non lampeggia ancora! Io mi avvio a terminare, credo di avere ancora tempo! E ancora un minuto e mezzo! Presidente, io sono un cacciatore ma non mi interessa sparare sulla Croce Rossa! Lezioni di gronda non ne vogliamo da nessuno tanto meno dal Partito Democratico e fortunatamente la Liguria, Savona, Genova, La Spezia, Sarzana, mi fermo, sono state liberate dai governi deleteri del PD. Questo decreto per il quale ringrazio nuovamente il governo e il nostro genovese Edoardo Rixi contiene risposte per l'alleggerimento delle procedure per la ricostruzione, risposte ai cittadini che hanno dovuto lasciare le case, sostegno alle imprese della zona e a tutte quelle penalizzate, sostegno al porto di Genova e alle attività collegate. Per questi motivi, Presidente, il nostro voto sarà distante da chi per puro dovere di teatro ha tentato di fermare con un rinvio alla Camera l'importante atto che stiamo per votare. pertanto colleghi, il voto del gruppo Lega Salvini Premier Stats sarà favorevole. Prima Grazie.